Allora, buonasera, buonasera a tutti. Non so se riuscite a sentirmi. Tra poco cominciamo, aspettiamo ancora qualche minuto. Però magari prima di cominciare se mi scrivete nella chat qualcosa, che materia insegnate. Riuscite a sentirmi? Sì. Ciao a tutti. Sono molto contenta che abbiate accolto questo invito per questo webinar questa sera. Vedo tante persone anche che conosco. Le saluto caramente. Do benvenuto a tutti gli altri docenti. Magari se nella chat scrivete la materia che insegnate. Non lo so, non credo che tutti insegnino l'inglese. Magari qualcuno insegna altre materie. Questa sera questo incontro non è prettamente per la lingua inglese, diciamo. Anche se, come lo sentite, il mio italiano a volte è anche un po' zoppicante. Allora vedo che ci sono anche dei docenti di scuola primaria. Sono molto contenta di questo. Primo grado. Italiano, storia, medie superiori, geografia. Molto bene. Aspettiamo solamente due minuti per dare a tutti la possibilità di connettersi perché sono giornate veramente. Anche musica vedo. Ah, bene. E religione. Ottimo. Sono giornate incredibili. Cioè, non lo so. Penso che sia per tutti così. Io sto lavorando tantissimo, tantissimo. Eppure non andiamo a scuola. Quindi, no, non so. Veramente è molto, molto impegnativo. Siete d'accordo? E poi i primi giorni magari sembrava così, no, di partire. Sì, dai, facciamo qualcosa, ma insomma senza troppo esagerare. E poi invece qui la situazione sta diventando quasi semi, sì, non so quale aggettivo usare veramente. Quindi bisogna che cominciamo a pensare a un periodo più lungo. E di conseguenza è necessario che facciamo un attimo il punto e che vediamo come organizzare le nostre lezioni online. Quindi vedo matematica, inglese, scienze nella scuola primaria, la Lombardia, tutto bene. Si rientra ai primi di ottobre? Ah, ok. Già detto così. Si sa già. Mamma mia. Ok. Scienze motorie e sportive. Dunque, questa sera io cercherò di dare degli input, di fare un po' il punto della situazione. Premetto subito che non sono, non salgo in cattedra di certo per insegnare nulla a nessuno. Questa è la lezione che io ho imparato, spero, diciamo facendo un po' il punto, sì, in queste settimane ormai noi nella mia regione siamo da un mese a casa. E quindi la mia lesson learned, si dice in inglese, no? La mia lezione che io ho imparato e che condivido con voi. Quindi direi che forse ancora un minuto e poi cominciamo. Grazie a voi per essere qui. Matematica e fisica al liceo scientifico. Ok. Dunque, gli strumenti che farò vedere sono abbastanza generali, per cui possono andare bene per molte materie. È chiaro che sono un pochettino condizionata dalla mia disciplina, quindi i lavori che farò vedere dai miei ragazzi sono ovviamente in inglese. Sostegno. Anche molte docenti di inglese, molto bene. Ok. Potenziamento, sì, dunque potenziamento. Adesso anche le scuole si organizzeranno nella mia, per esempio, stiamo già ragionando di dare anche questo, di riprendere questo servizio con sportelli dedicati, eccetera. inglese al linguistico. Benissimo. Dunque, si aggiungeranno sicuramente altri colleghi, ma direi di cominciare anche perché se riusciamo alla fine mi piacerebbe condividere un momento di riflessione comune e quindi se ci saranno delle domande magari di confrontarci su quello. Dunque condivido adesso con voi il mio schermo e vi faccio vedere la mia presentazione di oggi durante la presentazione purtroppo non riuscirò a vedere la vostra chat, però il host di Wikiscuola, il tutor, mi darà una mano, quindi se c'è qualcosa dalla chat che emerge, magari che non sentite, che non mi sentite o che non capite qualcosa, allora lui interverrà. Dunque cominciamo. Qualcuno di voi già mi conosce, io sono una docente di lingua inglese, insegno alle superiori, sono anche un teacher trainer, collaboro con la European School Net Academy di Bruxelles e mi sono diciamo formata in questi anni, trovo che questo lavoro che ho svolto adesso è proprio il momento di portarlo a frutto non solamente per me, sento forte l'esigenza, proprio quasi una missione di condividere quello che ho imparato in questi anni, sarebbe veramente egoistico tenerselo solamente per sé e anche nelle scuole gli animatori digitali stanno facendo un grande lavoro, il team digitale, siamo tutti uniti per riuscire a sopportare, a superare questa emergenza. Dunque dobbiamo andare online, l'hashtag della nostra scuola è la scuola non si ferma, quindi non si ferma, questi sono i miei ragazzi, noi siamo andati online già il 2 di marzo che è stato il primo giorno di chiusura per quanto mi riguarda nella mia scuola e abbiamo cominciato subito con lezioni online interattive utilizzando questo strumento di web call Zoom. I ragazzi hanno reagito con grande entusiasmo soprattutto all'inizio, adesso chiaramente sono anche loro un po' preoccupati. Il punto è come si comincia, come si mette in piedi questa distance learning, questa didattica a distanza, quindi il mio compito questo pomeriggio è di guidarvi in questo, cioè di condividere con voi le mie riflessioni e poi di farvi vedere alcuni esempi. Dunque io sono partita da questo, cioè chiedendomi quando avviene l'apprendimento, dove e come, perché è lì che dobbiamo lavorare, in quanto lavorare, cioè semplicemente insegnare online, l'e-learning, lo abbiamo fatto tante volte, molti di noi hanno usato gli strumenti digitali, fanno la cosiddetta didattica blended, il blended learning, ma anche se facciamo la flip classroom, anche se facciamo gli episodi di apprendimento situati o apprendimento collaborativo, ci sono dei momenti in cui comunque troviamo la nostra classe, li facciamo lavorare in gruppo, diamo del feedback, quindi la scuola è chiusa, è quello che ci manca in questo momento, credo che siate tutti d'accordo con me, è soprattutto il dialogo con i ragazzi, vederli la mattina, vivere con loro, sentire le loro anche proteste, ma prof, ma prof, ecco questa comunicazione interpersonale ci manca, la possibilità di farli lavorare in gruppo, proprio di farli sedere intorno a un tavolo e questo è quello che rende la nostra scuola in un luogo unico, quindi non c'è didattica online, questa è la premessa che vorrei fare, che possa sostituire, credo che siate d'accordo in questo, che possa sostituire il ruolo della scuola nel formare il cittadino, nel creare questo senso di appartenenza anche a una comunità, nelle interazioni fra i ragazzi, nel senso di responsabilità, nell'assunzione di un ruolo, eccetera. Però ora l'unica chance che abbiamo è la tecnologia, quindi l'unica cosa che possiamo fare per cercare in qualche maniera di dare un pizzico di normalità alle giornate dei nostri ragazzi, perché sono degli adolescenti, sono dei bambini che sono praticamente reclusi in casa, io non posso immaginare, non posso immaginare me stessa a quell'età, eppure sono una ragazza, sono una persona che ha vissuto il terremoto da Friuli Venezia Giulia nel 1976 e la situazione era completamente diversa, sebbene la scuola all'epoca fosse stata chiusa e non ci fosse più apprendimento, ma un forte senso di condivisione e di solidarietà. Ora ragazzi hanno bisogno dal distance learning di vedere i loro insegnanti, penso, anche per sviluppare un senso di normalità, di vedersi, di parlare, di provare empatia, condivisione di questo momento così difficile. Quindi per rispondere alla domanda quando avviene l'apprendimento in didattica a distanza, dobbiamo ragionare su questi due momenti e fonderli, quindi non solamente la lezione online in videoconferenza, che è sincrona, quando gli allievi imparano tutti nello stesso momento la comunicazione in diretta, c'è sicuramente interazione, motivazione ed è efficace perché c'è il chiarimento, il feedback immediato da parte dell'insegnante, ma anche dei momenti di apprendimento a sincrono, quindi dobbiamo, in cui la comunicazione è differita, ma i ragazzi possono avere altri vantaggi, altri benefici, per esempio maggiore personalizzazione degli apprendimenti è un ritmo di lavoro che segue i loro bisogni, quindi un video per esempio o delle pagine web o delle attività interattive dove loro si fermano, tornano indietro, rifanno, quindi un mix dei due. In quale modalità? Quindi la videoconferenza sì, la live chat, il video streaming, ma anche qualche video, magari la registrazione dello schermo nella modalità dello screencasting, per la classica povolta, indispensabile una piattaforma di learning management system, cioè una piattaforma come Classroom di Google, oppure Edmodo, Moodle e altri. Qui ho raccolto una serie di strumenti che possono fungere a questo scopo, G Suite naturalmente, io uso Edmodo, anche Teams di Microsoft va molto bene, Moodle, Schoology sono dagli altri e altri requisiti indispensabili sono la connettività che tutti devono avere, quindi è anche un fatto di equità, di pari accessibilità alla rete, sia per gli studenti ma anche per i docenti, nella mia scuola ci sono alcuni docenti che devono andare a scuola, per esempio per fare la lezione online, i personal device e le competenze pregresse, competenze digitali degli insegnanti e anche tanta resilienza, tanta pazienza, provare, riprovare, sperimentare, perché ciò che noi abbiamo fatto in tanti anni sperimentando e sbagliando, ora si tratta invece per molti di provare subito. Servono anche delle app di comunicazione perché mentre sei online hai bisogno di avere un contatto con i ragazzi che non riescono a connettersi oppure in altri momenti della giornata hanno bisogno di un chiarimento, quindi io vedo per esempio che io uso la chat di Edmodo ma anche le mail eccetera sono aumentate in maniera esponenziale, i ragazzi hanno veramente bisogno di un contatto con i loro insegnanti e poi abbiamo bisogno anche di un esperto, di un consulente, di qualcuno che ci aiuti quando succedono i problemi perché i problemi tecnici ci sono e come. Per quanto riguarda i tools di videoconferenza non so quale sia il vostro preferito, io avevo cominciato con Cisco WebEx, poi ho provato anche Jitsi però in questi giorni è sovraccarica e quindi è un open source e ho avuto dei problemi, la maggior parte delle scuole ha attivato Google Meet, io personalmente uso Zoom non perché per motivi particolari, non perché diciamo non mi piacciono le altre ma perché Zoom mi dà la possibilità di condividere con i ragazzi, insegno una lingua, anche un video, quindi l'audio del video oppure un listening si sente benissimo, quindi la mia scelta è ricaduta su Zoom. Qui vorrei far vedere come per esempio su Edmodo è importante o anche sul registro elettronico comunicare, ricordare ai ragazzi, mandare il link di condivisione, usare anche altri canali, back channel, instant messaging for example o una mail, insomma tenere i contatti perché i ragazzi tendono anche a dimenticarsi questo. Dunque come coinvolgerli però? Abbiamo bisogno di rendere efficace la lezione e quindi di strutturare il nostro intervento, sempre tenendo conto di quello che è il nostro mestiere, cioè partire da obiettivi di apprendimento e gli obiettivi di performance, di competenza da parte dei ragazzi. Io sono partita da qui, il mio sforzo è quello di creare una varietà di compiti, quindi non solamente compiti dati per casa, includere le istruzioni per svolgere le attività e le relative risorse, quindi anche questo è qualcosa che mi costa più fatica rispetto alla didattica in classe perché lì lo spiego a voce, mentre qui devo essere chiara nelle istruzioni. Monitorare i progressi di apprendimento degli studenti è anche un compito che richiede molto lavoro, ma che dà il metro dell'efficacia dell'apprendimento dei ragazzi, quindi non si tratta solo di dare dei compiti, ma anche di vedere se li svolgono, come li svolgono e soprattutto quanto imparano. Fornire possibilmente feedback personalizzati e coinvolgere gli studenti in attività interattive e online e poi valutare, e questo è un punto ancora aperto, non è ancora chiarissimo come dovremmo fare, io opto per una valutazione soprattutto formativa e poi vedremo alla fine con dei compiti più attivi e creativi. Dunque, per quanto mi riguarda, è importante comunque che qualsiasi cosa facciamo sia progettata e che sia inserita in un framework metodologico. Ecco, siamo partiti un po' così alla riscossa, pur di fare qualcosa, però se la situazione si prolunga come pare essere, è necessario allora inserire il nostro lavoro all'interno di un framework progettuale. Quindi che cosa, quale metodologia attuiamo? La flipped classroom, quindi registriamo delle video lezioni e poi ci ritroviamo online, in sincrono, per discutere, per fare delle attività più interattive, dei lavori, degli esercizi. Ok? Quindi ci basiamo su dei video assegnati per casa, oppure organizziamo, non so, una web quest, per esempio, una ricerca online, dando ai ragazzi dei link e poi ritrovandosi online per discutere come stanno lavorando. Quindi un challenge based learning basato su una sfida, quindi proporre un problema. Magari i docenti di matematica, di scienze, di fisica potrebbero proporre un problema reale e andare ad indagare fino a giungere alla teoria, quindi partire al contrario. Problem of project based learning. Per quanto riguarda la didattica a distanza, quando andiamo online, quando siamo nel web meeting, è importante anche che decidiamo, prima di andare online, se vogliamo che i ragazzi partecipino e soprattutto quando devono partecipare, quando intendiamo coinvolgerli. Chiaramente i saluti iniziali sono importanti perché è lì che passa il messaggio di coinvolgimento, anche il motivo, noi siamo i loro insegnanti in fin dei conti, però anche dopo la conclusione della conference call dobbiamo decidere quali attività somministrare e con quali scadenze, quindi anche questo è parte del nostro lavoro. Io ho avuto difficoltà personalmente nell'organizzare i tempi, quindi quando vado online, noi abbiamo in orario un'ora, ma quest'ora non intendo usarla tutta per parlare io. Voglio strutturare quell'intervento suddividendo il tempo in vari tipi di attività, quindi non sto lì a parlare un'ora facendo una lezione frontale, anche perché ormai dopo diversi anni non ne sono più nemmeno capace, bisogna saperla fare la lezione frontale, va bene, ma bisogna saperla fare. Quindi preferisco sessioni online brevi, magari una micro lezione, creo lo scenario di apprendimento e poi passiamo a fare delle altre attività. A volte anche interrompo la videochiamata e lascio che facciano degli esercizi, poi ci riconnettiamo dopo 20 minuti, oppure con Zoom ho la possibilità anche di creare delle break rooms dove i ragazzi si ritrovano nei gruppi per parlare, per esempio alla fine ci riconfrontiamo. Quindi possiamo condividere anche degli esercizi, mentre siamo online a volte copio dei link, li metto nella chat, lascio che facciano gli esercizi e poi ci ritroviamo a discutere le soluzioni oppure io proietto le soluzioni. Assegnare compiti e scadenze, naturalmente tenere d'occhio le chat i messaggi perché lì i ragazzi pongono tantissime domande, sia sul come fare, su come usare questi strumenti, magari uno è un po' più imbranato dell'altro, ma anche di tipo disciplinare, di comprensione. E trovo che sia importante incoraggiarli anche ad esprimere dei commenti, impressioni, feedback, perché tutto quel lavoro d'aula che noi facciamo, che svolgiamo a volte anche con una sola occhiata, con un sorriso, con una pacca sulla spalla, quella comunicazione non c'è, viene a mancare, sono davanti a uno schermo e quindi io uso tanti sondaggi, gli exit tickets sono praticamente dei biglietti di uscita in cui ai ragazzi viene fatta una breve domanda che può essere di comprensione oppure ti è piaciuto o non ti è piaciuto e vari momenti di riflessione. Quindi io suggerirei di avere un workflow, un piano di lavoro per ciascuna sessione online ben strutturato. Ci vuole naturalmente un piano di azione dell'istituto, quindi una tabella di marcia creata a livello della scuola e poi durante la lezione la progettazione dovrebbe includere risorse materiali per la lezione, alcune attività di apprendimento e alcune attività di assessment formativo. Quindi quando andiamo online condividiamo risorse preparate con gli studenti, stabiliamo le scadenze, facciamo degli annunci per esempio sulla lezione successiva oppure sulla scadenza di un determinato compito, promuoviamo discussioni, verifichiamo, correggiamo, inviamo feedback eccetera. Abbiamo quindi bisogno di una comunicazione più flessibile, lo schermo è rigido, anche quando siamo online per esempio, molti di noi l'hanno, chi insegna una lingua l'ha sicuramente sperimentato, i ragazzi se parlano tutti insieme non ci sentiamo, bisogna silenziare i microfoni, invitare uno a parlare poi deve silenziare il microfono, quindi è un momento difficile, allora è meglio utilizzare qualche strumento per esempio di brainstorming o di comunicazione in backchannel per dare feedback e per incoraggiarli a partecipare. Dunque qui vorrei presentarvi alcune app, alcuni strumenti che possono facilitare l'apprendimento a distanza con una premessa però. Chi di noi frequenta i social channels in questi giorni, su Facebook, su Twitter eccetera, è un bombardamento di app, di video tutorial, di webinar stessi, ce ne sono tantissimi, ma penso che non sia importante avere tantissime app. Una piccola cassetta degli attrezzi e selezionarle, selezionare queste app in base alla loro funzione, cioè che cosa ci voglio fare con questi strumenti. Per quanto mi riguarda è importante che siano flessibili, interattivi, user friendly, facili da usare, facili anche da condividere, cioè devo trovare facilmente il link da dare ai ragazzi, devono essere stimolanti. Ed inoltre consiglio di chiedere ai rappresentanti dei testi in adozione di sbloccare le edizioni digitali. Noi per esempio siamo partiti così, cioè con il cloud-based book, abbiamo un libro in adozione che purtroppo non abbiamo mai usato perché a scuola abbiamo poca tecnologia, meno tecnologia di quella che i ragazzi hanno a casa. E invece con questo libro che condivido, condividendo lo schermo, faccio vedere il libro e facciamo le attività. Quindi una selezione di poche app, direi 8-10 app al massimo e selezionate in base ai vostri gusti anche, ma per svolgere queste funzioni. Un'app di brainstorming, uno strumento che vi aiuti a mettere insieme e aggregare le risorse, perché quando andiamo online non è facile trovare il link e quindi li dovete avere in modo organizzato e raccolti in uno strumento aggregatore che possiate condividere con i ragazzi con un solo link, cioè non 10 link, un link solo che aggreghi varie risorse, uno strumento per registrare lo schermo oppure per registrare un podcast, la vostra voce per esempio, mentre dà delle spiegazioni, qualche strumento per creare dei giochi, dei quiz, dei test, quindi per promuovere sia la palestra, la memorizzazione, l'esercizio delle funzioni, delle attività, delle competenze eccetera, ma anche di assessment formativo e uno o più app magari per creare dei contenuti digitali, cioè per dare ai ragazzi dei compiti diciamo più creativi. Se qualcuno di voi invece conosce già esperto e conosce già molte app, suggerisco di visionare questo sito dell'Università di Udine che ha negli ultimi due anni svolto questo progetto App Inventory e qui per esempio in questa playlist che ho allencato qui sotto ci sono oltre 274 video tutorials e faccio vedere velocemente se riesco. App Inventory è nel progetto SAS dell'Università di Udine e questi video tutorial sono stati creati tutti da docenti, non solamente dell'Università ma soprattutto dagli studenti. Vedo che stenta un po' a caricare quindi lascio perdere per il momento. Va bene, quindi in poche parole si tratta di non fare solo compiti per casa ma di andare avanti. Io per esempio mi sono trovato sempre molto bene già in passato e i miei ragazzi lo conoscono con questo strumento aggregatore che si chiama Blend Space Test Teach. Qui per esempio vedete che sto lavorando con i ragazzi. Test Teach vi dà Blend Space, vi dà la possibilità di aggregare delle risorse. Ognuno è praticamente una libreria, uno scaffale e potete aggregare sia siti web che video, che parti di testo, che PDF, immagini eccetera e quando poi andate online con i ragazzi vi ritrovate ad avere una specie di PowerPoint dove potete aggregare poi anche altre presentazioni. Qui per esempio ho aggregato uno Geniali con altre informazioni che comunque i ragazzi possono tornare a vedere. Qui c'è un video per esempio che abbiamo visto insieme durante le sessioni online e elementi di testo di informazioni per i ragazzi, un sito web con il preface of the picture of Jordan Gray, quindi potete linkare dei siti, inserire dei testi, dei PDF, se avete dei vecchi PowerPoint li potete anche mettere con un semplice, un semplice link, un semplice link, voi potete quindi con questo link condividete con tutti i ragazzi, in questo caso io ho oltre dieci risorse, video eccetera, ok? Posso anche dire ragazzi ok siamo arrivati fino qui, guardate questo video, top notes, top ten notes per casa e rispondete alle seguenti domande o altre attività, ne riparliamo la prossima volta. Quindi io suggerirei BlendSpace o in alternativa altri strumenti aggregatori come Wakelet per esempio, Suttory, ce ne sono tanti. Per registrare lo schermo ci sono tanti strumenti che naturalmente funzionano molto bene, ScreenCustomatic è uno dei più conosciuti, dà la possibilità di registrare fino a 15 minuti gratuitamente, ScreenCastify, CaptureCast, PowerSoft, qui ce ne sono altri due, Loom per esempio dà la possibilità di registrare oltre 15 minuti e di avere il link anche sul canale, Nimbus è un'estensione di Chrome, quindi diciamo uno, sono tutti buoni, non ce n'è uno che sia meno buono dell'altro. Si può usare però anche lo stesso strumento di videoconference, ad esempio Zoom, se io mi connetto e non ho invitati posso registrare lo schermo fino a 40 minuti gratuitamente e scaricare il video da mettere su YouTube e quindi faccio la Flip Classroom anche con Zoom o con Google Meet ultimamente. Ma ci sono, invece di registrare io qualcosa, per esempio, perché non far vedere ai ragazzi dei video già pronti? Ci sono tantissime librerie online da TED Ad, Arae Scuola, video che possiamo trovare su YouTube, su Vimeo e altre fonti. Ma come renderli interattivi? Cioè come fare in modo che questi video non siano semplicemente una serie di scene che passano come guardare un film in TV? Uno di questi, per quanto riguarda la lingua inglese, è ottimo, è ISL Collective. Mi dà la possibilità, vedete qui sotto ci sono delle domande, non sono solamente delle domande, ma sono veramente delle attività che possono essere, adesso cerco di farvelo vedere, che possono essere di multiple choice, che possono essere di ricostruzione della frase, vediamo se riesco a farvelo vedere, di ricostruzione della frase, di tapping, posso anche poi scaricare il test, eccolo qua. Quindi non si sentirà l'audio, ma vi faccio solamente vedere. Il video va avanti e arrivato lì c'è un gap da completare, quindi i ragazzi qui dovranno scrivere le parole che mancano nella frase e quando avranno risposto, adesso mi sembra che sia the same front, the same seat, non mi ricordo come va qui, e suggerisce, vedete, la risposta giusta, la risposta sbagliata. Il video poi prosegue e dà altri tipi di attività che ho creato io. Per esempio, in questo caso, devono ricostruire la frase, quindi questa, every single day I sit there. Diciamo, questo è un strumento molto bello, soprattutto per gli insegnanti di lingua inglese. E questo invece, Ed Puzzle, che forse molti conosceranno, dà la possibilità di vedere un video, sì, ma qui al lato, come vedete, ci sono delle domande a risposta aperta oppure multiple choice e quindi quando il video parte, si fermerà a un certo punto, a un certo punto si fermerà e si interromperà per chiedere ai ragazzi di interagire dando delle risposte alle domande che voi avete fatto. Ci si può, per esempio, ritrovare la volta successiva e discutere queste risposte. Quindi questo era Ed Puzzle. Proseguendo, dicevo prima che è importante dare feedback ai ragazzi, ma anche sollecitare la discussione, il brainstorming delle idee. Qui, per esempio, i miei ragazzi hanno lavorato su parole in inglese e abbiamo creato, come vedete, una nuvola di parole. Lo strumento, in questo caso, si chiama Mentimeter. Loro hanno inserito le parole fino a formare una nuvola di parole. Quindi potrebbe essere usato, per esempio, per chiedere anche come definire una certa situazione oppure i personaggi di una storia. Con Jamboard, un altro strumento che fa parte della G Suite, qui i miei ragazzi hanno risposto a delle domande abbastanza banali, quello che noi facciamo solitamente in inglese, e hanno creato questi sticky notes in cui ciascuno di loro ha risposto a delle domande. Questo strumento può essere usato anche durante la videoconferenza perché corrisponde a una lavagna multimediale. E scaricando l'app di Jamboard sul vostro tablet, per esempio i docenti di matematica, non lo so, possono con un pennino scrivere veramente sulla pagina o inserire delle immagini e poi commentarle in diretta. Vedete, qui si aprono gli sticky notes e qui potete dare delle informazioni, mettere anche dei link ai siti web. Quindi può essere usato in questa maniera qua, oppure con la penna per, vedete, a questo punto i ragazzi, lo possiamo aprire alla condivisione come faremmo con qualsiasi documento di Google e i ragazzi accedono e scrivono come hanno fatto i miei che vi ho fatto vedere qua. Altri strumenti belli, per esempio Tricider per favorire il debate. In questo caso mi è raggiunto ai ragazzi degli aforismi sulla solitudine e sull'isolamento e loro stanno partecipando, devono, come vedete, mettere un elemento a favore, uno contrario, quindi se non possono votare sulle affermazioni dagli altri e si forma una discussione strutturata che può essere su qualsiasi tipo di argomento, di opinione, di pro e contro, benefici e svantaggi. Questo strumento si chiama Tricider e porterà fra due giorni alla decisione finale. È molto facile da creare, basta cliccare qui, Create a new transition, si clicca qui e si pone una domanda, vedete questi sono tutti quelli che ho creato io negli anni, quindi qui fate una domanda, poi cliccate su Go, che si fa oggi, cliccate su Go, ottenete il link, impostate la deadline, aggiungete le idee, ok, e con questo invitate qualcuno, qui avete il link, lo date ai ragazzi e chiedete che partecipino, quindi di facilissima condivisione. Questo invece si chiama Answer Garden, scusate che sono andata un attimo troppo indietro, Answer Garden lo suggerisco perché è facilissimo da creare. Qui i miei ragazzi hanno usato delle parole per descrivere un'immagine su cui stavamo lavorando e hanno usato degli aggettivi per descriverlo e adesso se siete d'accordo vorrei provare a farvelo usare, quindi se ciascuno di voi va su questo link, ok, se riuscite ad andare su questo, uffa, Answer Garden, oppure se avete un cellulare inquadrate questo QR code e qui potremo vedere questo sondaggio che ho lanciato per voi, quindi copio questo link e se riesco ve lo metto nella chat, così ecco lo metto nella chat, Answer Garden potete provare a rispondere a questa domanda, cioè la domanda è come descrivereste la vostra esperienza di didattica a distanza, scrivete qui un determinato aggettivo, poi con submit vediamo le vostre risposte. Qui sotto io ho la possibilità di share, condividere questa Answer Garden, di esportarlo, quindi quando il sondaggio sarà finito potrò scaricare il PDF oppure l'immagine, posso anche far vedere il QR code in diretta ai ragazzi, quindi se loro hanno un cellulare oppure se voi ce l'avete adesso, inquadrando questo QR code accedete direttamente al dibattito, e con questo tasto refresh vedo se arrivano delle, cioè aggiorno e vediamo che infatti qualcuno di voi ha partecipato, le domande più, cioè le risposte più frequenti, più comuni, stimolante, impegnativo, mi dice adrenalitica, faticosa, impegnativo, stressante, cattivante, difficile, stimolante, interessante, bella, innovativa, quindi c'è un po' di tutto, questo ve lo consiglio perché veramente vi porta via un attimo per farlo, quindi cliccate sul più per crearne uno nuovo, qui inserite la vostra domanda che si fa domani, ok, qui sotto potete dare, ci sono brainstorming, classroom, non è così importante, qui potete decidere quanto è lunga la risposta, diciamo 20, qui potete inserire una password in modo tale da poter modificare il vostro answer guardian, cioè di venirne gli amministratori, e qui lasciate pure tutto come va, aumentate la durata, quindi una settimana, e così si crea, fatto, che si fa domani, non ho fatto, avete visto quanto ci ho messo, però questo strumento così semplice mi dà la possibilità, adesso ve lo linko direttamente qui, ecco che si fa domani, avete visto in un secondo l'ho creato, e potrei benissimo metterlo anche online con i ragazzi per favorire la discussione, loro trovo che ne abbiano bisogno, hanno bisogno di questo contatto che manca in classe. Un altro strumento che stiamo usando tantissimo è Padlet, Padlet lo conosciamo in tanti, è un passpartout per fare tantissime attività, ma forse molti di noi lo hanno usato anche come aggregatore di risorse, per metterci delle immagini, per metterci dei link, per cercare su Google delle immagini, ma molti non sanno che cliccando in basso sui tre puntini si aprono, vediamo se riesco a far vedere meglio, si aprono, sui tre puntini si apre un menu particolare con altre funzioni, mi dà per esempio la possibilità di scattare un'istantanea, quindi potrei chiedere ai ragazzi con il loro cellulare di scattare una foto su un determinato argomento, ma potrebbe essere anche l'esercizio di matematica che stanno svolgendo e me lo caricano direttamente, può essere anche un disegno, di fare un video, quindi con Padlet potete registrare un video voi, dando un saluto ai ragazzi, spiegando, dando delle istruzioni, e questo video si carica direttamente su Padlet, cioè non dovete andare su YouTube, su Vimeo, su Screen, Castomatica, a fare un video, lo potete fare lì, e potete anche registrare un breve audio, un podcast, per esempio fare un commento, come faremmo un messaggio vocale su WhatsApp, lo potete fare direttamente su Padlet, potrete anche aprire un post con un disegno, quindi se avete un pennino, un webcam, potete disegnare, potete mettere un file, e potete incorporare anche un Padlet dentro un Padlet, vi faccio vedere due esempi, scusatemi, allora devo andare avanti qui, qui per esempio io ho usato Padlet con i miei ragazzi, per un compito creativo, questa è un'immagine che dovevano descrivere, ho posto delle domande, l'attività si sta svolgendo, l'argomento di base sono i verbi modali, quindi un argomento grammaticale, l'attività si è svolta in due settimane ormai, lo uso quindi per sviluppare la composizione scritta, vedete che intervengo cancellando, evidenziando le correzioni, posso anche impostare una valutazione, a stellina, però, nei commenti, do dei suggerimenti ai ragazzi, che apprezzano molto questo contatto, è chiaro che mi costa fatica, però se vedete dai primi post, vi faccio vedere proprio a colpo d'occhio, i primi post di poche righe, molto schematici, di pura risposta, risposta 4, risposta 5, risposta 6, si stanno estendendo al punto che nella personalizzazione, i ragazzi mi stanno scrivendo spontaneamente dei papiri, cioè mi fanno dei temi, questa è la personalizzazione, guardate, cioè diventano sempre più lunghi, sempre più ricchi, e stanno veramente cercando di dare qualcosa, di esprimere se stessi. Abbiamo fatto anche dei podcast, questo è un altro Padlet, nei quali i ragazzi hanno registrato, dovevano intervistare questa signora anziana, che abbiamo inventato, fosse l'inquilina, la proprietaria della capanna, e qui hanno registrato le loro domande, cioè che cosa avrebbero chiesto alla signora, quindi possiamo usare Padlet, come vedete, anche per caricare dei podcast, questi potrebbero essere dei messaggi vostri, oppure una risposta da parte dei vostri ragazzi, a un determinato quesito. E qui ho usato Padlet, invece questo è il nuovo compito che stiamo facendo, quindi cercare di andare sempre più nel creativo, qui i ragazzi devono creare un libro digitale, oppure un video, oppure una pagina web, oppure una presentazione, utilizzando vari tools, che ho raccolto in questo ThingLink, con anche i video, tutorial, eccetera, va bene, non mi attardo troppo, perché è un po' specifico. Le eLife Worksheets, sono delle schede interattive, sono disponibili in varie materie, non solamente in inglese, per esempio questa qui, è una mappa, creata da una professoressa, sull'orecchio, e su questa mappa, lei ha inserito degli elementi interattivi, quindi i bambini o i ragazzi, mappe per la scuola, la resa interattiva, i bambini, i ragazzi, possono inserire qui delle risposte, e poi con Finish qui in fondo, verificano, Check My Answer, possono vedere se le risposte erano corrette, ma se l'avete creato, cioè se voi avete un account, possono anche inviare la mail a voi, quindi qui scriveranno il loro nome, qui metteranno la loro mail, e voi riceverete sul sito degli Interactive Worksheets, le risposte dei vostri ragazzi, vedete con, qui si può mettere anche il voto, e quindi è una forma di test, di assessment formativo, di esercizio allo stesso tempo, senza che dobbiate correggere tutti i compiti, qui ce ne sono diversi, il Body System per esempio, questo è di lingua, anche qui, e sono molto belli, anche perché si possono inserire elementi parlati, dove non solamente i ragazzi ascoltano, ma anche possono registrare loro la voce, possono fare uno speaking. Dunque le Learning Apps, molti le conoscono già, ce ne sono, le Learning Apps sono state sviluppate, da un'università svizzera, quindi non si possono veramente chiamare dei giochini, ma sono dei moduli di apprendimento, in tedesco si dice Learn Module, ce ne sono tantissimi, qui potete andare a cercare, tutte le app disponibili, cercate anche la vostra materia, non so per esempio latino, e vedrete che troverete tantissime app, già create da altri insegnanti, mitologia, latino, verbi, eccetera, per esempio questa è un gioco di coppie, i ragazzi devono fare le associazioni, e qui sotto potete creare un'app simile, quindi, oppure prendere questo link così com'è, ma se create un'app simile, allora entrate nel template, e potete modificare questa app, utilizzare, non so, modificando per esempio, non so, aggiungendo altre immagini, aggiungendo altri elementi, traducendo in altre lingue, e con salva questa app diventerà una delle vostre, una delle vostre app, e la potrete ritrovare nell'elenco delle vostre app, ok, questo è learning apps, altri, World World, non so se lo conoscete, è un gioco, anche questi sono, diciamo, giochi didattici, ma con una veste veramente accattivante, questo per esempio è un gioco che ho creato io, di past tense, con i paradigmi, dove i ragazzi devono, vediamo se trovo both, vedete, semplicemente, fare il matching, sing, sang, dove sarà, ecco qua, e poi quando hanno finito, quando hanno finito, cliccano su check, e dunque, e si vede come, e si vedono le soluzioni, anche qui ne potete trovare moltissimi, già pronti, avete la possibilità di scegliere, fra tutti questi template, ce ne sono oltre 18, ok, e alcuni sono, un certo numero è disponibile gratuitamente, e comunque i propri giochi, si possono continuare a modificare, senza dover fare l'upgrade, senza dover pagare, quindi anche World World può essere utile. vari giochi online, che abbiamo fatto con i miei ragazzi, per esempio, questo è un gioco grammaticale, sul lessico, questo è Quizzes, che funziona molto bene, potete creare anche dei test, con Quizzes, farli giocare online, e si vede l'andamento, delle risposte giuste, delle risposte sbagliate, può essere un'alternativa Kahoot, che già molti conoscono e utilizzano. Penso che sia importante, che anche quando siamo online, in questi momenti, ci siano dei momenti di divertimento, di puro divertimento, però nello stesso momento, io ottengo dei risultati, uno spreadsheet, un Excel, dove vedo l'andamento della classe, se stanno capendo oppure no. Quizlet è altrettanto valido, sono delle flashcards, che mi consentono, ho messo tutti i link, qua giù in fondo, e con questo, non riesco a vedere. Allora, che mi consentono, di, per esempio, queste sono delle schede, per le scienze, quindi rovesciando la scheda, Atmosphere, Around the Earth, con varie modalità, di apprendimento, e qui in fondo, scusate, e qui in fondo, ho la possibilità, anche di lanciare, un gioco live, ci sono due giochi, più posso lanciare, un gioco live, che forse, non molti conoscono, che si chiama, Quizlet Live, e che cosa ha di particolare, questo Quizlet Live, il fatto che, si formano, delle squadre, in modo automatico, vedete, i ragazzi hanno, i loro cellulari, il computer, li abbina, quindi non giocano, solamente, con chi vogliono loro, e, possono giocare, a distanza, e, il gioco, richiede, una certa strategia, perché, compaiono, un set, di risposte, ma non è detto, che ci sia, la risposta giusta, sul cellulare, di un determinato, componente, quindi, devono cliccare, solo se vedono, la risposta giusta, se cliccano, solo per cliccare, la squadra perde punti, quindi, è un modo, per anche responsabilizzarli, per divertirsi, va bene, vado avanti, questa è la schermata, con cui, si può, giocare, si dà il codice, ai ragazzi, quindi, condividendo lo schermo, lo potete fare facilmente, e poi, avrete, noi l'abbiamo fatto, e i ragazzi, si sono veramente, tanto divertiti, quindi, in queste giornate, così intense, in cui siamo, adesso stiamo sentendo, la fatica, credo, si sta cominciando, ad accumulare, tutto questo stress, questa mancanza, di certezze, di orizzonti temporali, abbiamo più tempo, e questo tempo, perché anche le lezioni, sono ridotte, ad esempio, nella mia scuola, non facciamo l'orario, completo online, perché tante attività, vengono fatte, in asincrono, questo tempo, potrebbe essere utilizzato, per esempio, per leggere, leggiamo qualcosa, online, con i nostri ragazzi, qui, per esempio, io ho utilizzato, questo sito, che si chiama, scusate, che si chiama, che si chiama, che si chiama, veramente il gusto della letteratura, e qui ce ne sono, naturalmente, sono per la mia lingua, ma sono certa, che ce ne sono molti, disponibili, anche, in italiano, questo sito, l'ultimo, che vi faccio vedere, è un sito stupendo, è, è, patrocinato, supportato, dall'Associazione Americana, dei bibliotecari scolastici, bibliotecari scolastici, quindi, loro sono, veramente, una forza nella scuola, e tutti questi libri, sono disponibili, in inglese, ma io posso anche, impostare la narrazione, in altre lingue, per esempio, qui inglese, ho impostato italiano, ma potrei mettere anche cinese, altre lingue, se per esempio, non so, tedesco, eccetera, eccetera, comunque adesso lascio italiano, e quindi, con questa opzione, dell'italiano, che cosa succede? Che se io apro uno, qualsiasi di questi libri qui, non so, apro questo, sui fossili, ho sia la lettura in inglese, che la lettura in italiano, adesso non so, se si sentirà con l'audio di sistema, credo di no, perché devo, dovrei operare sul microfono, ma non lo faccio, comunque, c'è la lettura in inglese, e la lettura in italiano, quindi è un libro digitale, e potrei veramente ascoltare, in inglese, e in italiano, ecco, anche questo, quindi, quando, come vi ho fatto vedere, le opportunità sono tantissime, questo è un altro libro, stupendo, però, insomma, adesso, mi pare, questi sono altri libri interattivi, che fanno parte, fra l'altro, di un, di un, del corso, dei corsi, di wiki scuola, quindi, sul sito di wiki scuola, ci sono due corsi, digital english one, and digital english two, dove, io ho creato varie risorse, per il brainstorming, vedete, ci sono sei moduli, i primi moduli, sono di acquisizione della lingua, gli ultimi, invece, sono più, aperti, alla metodologia, alla scrittura, gamificazione, quindi gamified learning, e poi, più avanti, ci sono strumenti, per la progettazione, metodologie attive, progettare scenari, di apprendimento, metodologia di apprendimento attivo, creazione di lezioni, think link, wakelet, alcuni, gli hyper docs, quindi ho raccolto, in questi corsi, veramente, tanto, tanto lavoro, di tanti anni, di studio, di ricerca, che ho messo a disposizione, di tutti, e che sto continuando, a condividere, anche sui social, per aiutare, i colleghi, quindi, questo è quello, che mi sono sentita, di condividere con voi, questo pomeriggio, se ci sono, delle domande, molto volentieri, adesso sono in grado, di vedere anche, la chat, vedo sì, grazie, grazie a tutti, sì, sono tante idee, diciamo, concentrate, in un'oretta, l'app per leggere, i libri, dunque, per quanto riguarda, l'inglese, si chiama, ESL, bits, aspettate, che prendo il link, lo metto nella chat, ESL, bits, eccolo qua, se riesco, vi faccio anche vedere, come funziona, di nuovo, ecco qua, allora, ESL bits, è un sito, veramente molto bello, ci sono tanti livelli, non solamente questi, diciamo, più alti, nei classic books, potete andare a cercare, ce ne sono, ci sono tanti, tanti, tanti romanzi, ok, noi per esempio, stiamo leggendo, the picture, anzi, abbiamo quasi finito, the picture of Dorian Gray, e quando apro il libro, ci sono i vari capitoli, e per esempio qui, posso impostare, vedete, le letture, vorrei anche farlo, perché, vediamo se riesco, ma devo cambiare le impostazioni, del, Chapter 2 As they entered, they saw Dorian Gray, he was seated at the piano, with his back to them, Chapter 2 As they entered, they saw Dorian Gray, he was seated at the piano, with his back to them, If you want to discover a dinosaur, se vuoi scoprire un dinosauro, you have to find a fossil, devi trovare un fossile, then you can study it, così potrai studiarlo, ecco, ecco, non so se mi sentite di nuovo, perché ho dovuto cambiare l'audio di sistema, altrimenti non ho la possibilità di far sentire, quindi il, questo sito si chiama Unite for Literacy, Unite for Literacy, mettiamolo nella chat, Unite for Literacy, e invece, ma, ce ne sono tanti altri, non solamente questo, io vi faccio vedere alcune cose, perché nel corso del Digital English c'è l'enciclopeia britannica, cioè ci ho lavorato sei mesi per un lavoro in mane, non so neanche perché l'abbia fatto, sono impazzita, ma a quell'epoca non potevo neanche immaginare che sarebbe successo tutto questo, quindi, sinceramente anche devo dire che io non sono molto commerciale, chi mi conosce sa che sono molto riservata, molto riservata, e non pubblicizzo, però in questo momento sono venuta un po' alla scoperto, perché mi rendo conto che c'è un corso lì con tantissime risorse, e nessuno lo sa, e allora, ecco, poco fa parlava di una biblioteca, che è la biblioteca è questa degli americani, Unite, questa qui, Unite for Literacy, è un progetto proprio per combattere l'analfabetismo, che come potete immaginare, negli Stati Uniti è un problema serio, forse più grave che nel nostro paese, Unite for Literacy, e i libri possono essere visionati, naturalmente di base in inglese, perché loro sono anglofoni, però ci sono tutte le lingue, per cui diventa interattivo, io personalmente li ho dati alle mie nipotine, la mia nipotina ha cinque anni, e sta lì e clicca sul suo tablet, e passa le giornate, quindi può essere anche quella un'idea. Thank you for your passion, yes, a lot of passion, it's the only thing that really moves us, perché non saremo neanche tenuti d'accordo, però tutti noi insegnanti, secondo me, meritiamo un plauso, perché stiamo facendo un lavoro incredibile, e ci sono colleghi che, nonostante non fossero, diciamo, così digitali, o anche addirittura molto scettici, si stanno inventando delle cose, e sono desiderosi di imparare, cioè domani farò un corso per il Future Class, la Future Lab di Bari, dove si sono iscritti 4.800 docenti, cioè è una cosa pazzesca, non si è mai sentito questo, quindi veramente. Se ci sono delle domande, vediamo, ho perso un po' il filo, thank you for your passion, ok, questo l'ho letto, poco fa sentivo della biblioteca, ok, si sente, ok, perfetto, comunque, sì, sono d'accordo Tiziana, assolutamente, la sfida è proprio questa, cioè cercare di creare delle attività che siano creative, che diano uno spunto ai ragazzi, in modo tale che quello che stiamo facendo abbia un senso, la nostra fatica abbia un senso, anche perché noi siamo degli insegnanti. e concludo questa presentazione con questa frase a cui tengo moltissimo, la tecnologia è solo uno strumento, e ancora di più lo è adesso, ma quello che passa è la nostra missione, che siamo noi, noi siamo degli insegnanti, quindi non importa quanto distanti siamo dai ragazzi, noi restiamo vicini ai nostri ragazzi, e sono convinta che ce la faremo in questo. e concludo anche con questa frase, quando sono andata a fare il volontariato nell'Africa l'ho imparata, Ubuntu, I am because you are, io sono un insegnante perché loro sono i miei allievi, quindi questo mi sento veramente di condividerlo. se volete contattarmi, questa è la mia mail, c'è anche un sito, un blog dove ho raccolto negli ultimi anni il lavoro dei miei ragazzi, e questo è il mio handle di Twitter, non so se siete su Twitter. quindi questo è quello che posso condividere con voi finora. Dunque, grazie per essere stati con noi questa sera, se rimetto nella chat anche la mia mail, non so se Mattia doveva dire qualcosa, non mi ricordo, grazie a voi, grazie per essere stati qua, grazie ancora. Ho fatto un po' di pubblicità nel mentre, niente, chi ha partecipato al webinar può ricevere uno sconto del 20%, utilizzando il codice scrivi2020 nella piattaforma dei corsi di wikiscuola.it e niente, grazie per averci fatto questa presentazione, grazie mille. Mi pare che la registrazione sarà disponibile sul sito di, non lo so Mattia, mi pare, quindi se qualcuno fosse arrivato in ritardo, magari può rivederlo. Sì, sarà disponibile tra un'ora sulla portafora ubicorsi.wikiscuola.it Ok, allora, Ubuntu, ok? Forza, forza che siamo degli insegnanti, arrivederci e state bene, stay healthy, goodbye everyone, goodbye.